Problematica del sovraindebitamento, una problematica che si riscontra anche alla Spezia, questo convegno fa un po' il punto sulla situazione, quali sono i dati? Sì, purtroppo è una problematica, magari si riscontrasse solo alla Spezia o non alla Spezia magari. È sicuramente una situazione che purtroppo tocca tanti nuclei familiari residenti nella nostra provincia che si trovano col tempo a non riuscire a soddisfare, sostenere gli impegni restitutori dei prestiti che hanno contratto col passare del tempo. Contratti molto spesso per far fronte a vere e proprie necessità, altre volte ai miei contratti con un po' troppa leggerezza e che quindi poi si pesano in modo sostanziale sul bilancio familiare. Le procedure per il contratto al sovraindebitamento sono delle procedure che proprio in questo periodo cominciano a essere applicate in Italia attraverso una legge del 2012, poi con decreti attuativi attuata definitivamente nel 2015, ancora sostanzialmente poco conosciute, che però consentono un approccio diverso rispetto al passato per sostenere, come dice la parola, il sovraindebitamento di soggetti non fallibili, in particolare quindi le famiglie, il piccolo imprenditore, il lavoratore autonomo. Quindi ci sono comunque delle realtà che vengono in aiuto, anche un aiuto informativo al cittadino per evitare appunto che accumuli debiti su debiti e rischi di non rendersi conto delle proprie capacità economiche. Sì, ha detto bene, è proprio questo. Molte volte il rischio di non rendersi conto che a poco a poco si entra in una spirale non poi più gestibile è purtroppo proprio una caratteristica. Ci sono appunto, come diceva, delle realtà e il convegno di oggi lo ha messo in evidenza. Esiste proprio un lavoro di rete tra l'ordine dei commercialisti, l'ordine degli avvocati, lo sportello microprestiti della Caritas e i servizi sociali dei comuni della provincia insieme alla fondazione territoriale, la fondazione Carispezia, che cercano da un lato di erogare microprestiti per famiglie in difficoltà economica, questo per evitare ulteriori indebitamenti non sostenibili alle famiglie per far fronte quindi a spese di prima necessità e dall'altro cercano di porre in soluzione le situazioni di sovrindibitamento applicando e rendendo sempre più diffusa l'applicazione della normativa prevista appunto dalla legge 3 del 2012. Chiaramente non vogliamo dire che da questo momento ci si può fare quanti debiti si vuole perché poi una soluzione sarà trovata. Non esistono bacchette miracolose, esiste solo la volontà di stare vicino a queste persone e di verificare se con una nuova normativa queste soluzioni possono essere rese concrete.